Fontamara Fontamara è un posto scuro e antico di poveri contadini. A mezza costa, tra la collina e la montagna a nord del lago del Fucino, mo' però il lago non ci sta più. Assomiglia a uno dei villaggi del sud, uno di quelli fuori mano, tra il piano e la montagna, arretrato, misero e abbandonato. Chi sale dalla piena del Fucino vede Fontamara sul fianco di una montagna arida e brulla, cento case basse, irregolari, informi, annerite dal tempo, sgretolate dal vento, dagli incendi, dalle piogge. Quelle catapecchie hanno una sola apertura che fa da porta, finestre e cammino dentro, il pavimento non ci sta. Lì dormono, mangiano, procreano, tutti nella stessa stanza, uomini, donne, loro figli, capre, galline, asine e porci. Nella parte alta di Fontamara c'è la chiesa con il suo campanile. Chi lo guarda da lontano, Fontamara sembra un greggio di pecore scuro e il campanile un pastore. Le stesse interminabili liti che si tramandano in rancori e processi per sapere di chi è quel cespuglio di spine. Il cespuglio brucia, le liti continuano. In capo a tutti c'è Dio, padrone del cielo, questo ognuno lo sa. Dopo c'è il principe Torlonia, padrone della terra. Dopo ci stanno le guardie del principe. Dopo ci stanno i cani delle guardie del principe. E dopo niente. Dopo ancora niente. Dopo ancora niente. E dopo ci stanno i cafoni e si può dire che è finito. Chi le sacce, come si parla con le autorità, io sono stata a Roma a ricevere la medaglia al valore per il marito è morto. Si vuole far accompagnare da un'altra donna di cui preferisco non fare il nome. Ha il marito in America da dieci anni ed è incinta. E ci vuole fare credere a noi che il marito l'ha messa incinta dall'America. E si avvicina il Vira e mi fa Matalè, Matalè, e non possiamo fare brutta figura. Matalè, vai tu. Don Circostanza è l'amico del popolo è sempre stato benevolo con la gente di Fontamara è sempre stato il nostro protettore, la nostra difesa e la nostra rovina finché un giorno il generale Baldissera è arrivato in paese tutta in città il tempo dei morti vivi è tornato da mezz'anno gli ho fissi hai visto chi? i morti una sfilata di uomini in camicia nera una sfilata di uomini con teschi in camicia nera e osso di morti osso di morti sul petto e sulle bandiere i nostri morti sulle bandiere i nostri morti le cinque lire torneranno le cinque lire ce l'avete la tessera? che tessera? la tessera fascista senza tessera non si lavora in cella la vezzanese e Berardo parlano, parlano non smettono mai a me sta storia del solito sconosciuto non mi piace è un cittadino o un caffone sei un cittadino io non gli credo perché i cittadini stanno bene che sfruttano i caffoni non tutti i cittadini sono uguali un'unione tra cittadini onesti e caffoni è possibile fidati i cittadini stanno bene e i caffoni male i cittadini lavorano di meno e guadagnano di più mangiano e bevono e ne baghano le tasse noi altri siamo peggio dei vermi tutti ci sfruttano ci imbrogliano ci calpestano ma perché il solito sconosciuto si fa i fatti nostri? quando li rivedrai saluta gli amici tuo padre il generale Baldissera venerdì santo papasisto ma soprattutto scarpone a lui chiedi scusa da parte mia tanto si sapeva che sarei morto in carca il titolo è tanto è viva per arca morto in carcere viola il primo caffone a non morire per sé ma per qualcun altro quando li rivedrai il primo caffone saluta gli amici viva a non morire per sé quando li rivedrai a non morire she Grazie a tutti